Ok, dobbiamo tornare dal discepolo di Thor, giusto? Eccoci qua, siamo tornati eh Conoscerà la mia vendita, vi sono grato Non c'è di che Se ne va, che coraggio va a cercare Thor da solo È un'idiota Che ha lasciato lo spirito? Un'offerta a uno degli dei Possiamo usarla? No, ma forse in anisi Ok Ok Andiamo Andiamo Che cazzo Ah, questa non lo sapevo Bellissimo, andiamo di qua Vieni un attimo qui Aspetta Qua che c'è? Come saltiamo? Ma io volevo andare a vedere dall'altra parte Oddio Fessima idea Ma perché? Ma è morto? Perché? È il suicidio Di Kratos Nel God of War Va bene Perché quella scena mi ha fatto Ehi Brock Abbiamo trovato qualcosa Non mi dire Allora svalordiscimi Tir sarebbe andato in brodo di giugiole A vedere queste offerte trasformate in armatura Lo conoscevi? Che tipo era? Lascia stare ragazzo Tir è morto Meglio non rivangare il passato Il nano è saggio Una volta tanto Quindi che mi dai? Per caso Vi siete imbattuti in un tipo trasandato Alto Insensibile al dolore Che sembra ubriaco Ma che probabilmente È solo scemo? Sì Come pensate che mi senta? Se volevo fare affari con gli Aesir Aprivo bottega fuori da un bordello O un'arena O un'arena di bordello Ha detto Aesir Come gli dèi? No Fate molta attenzione voi due Le strade brulicano di orde di morti Più del solito ultimamente L'abbiamo notato Hai idea da dove vengono? Forse non c'è più posto in El O forse Odino Fomenta disordini O magari si sono persi Perché non glielo chiedi tu Quando ti staccheranno la faccia a Morsi? Ehm Allora staremo attenti Fate bene Vabbè Cosa avete trovato in giro? Posizione per figlio Ok Oh 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 Dio mio Allora vediamo un po' un attimo Ma pure il busto No solo delle braccia Fianchi no Dimmi paura ragazzo No no Rompi i coglioni Poi me lo lascio Ok Niente Compariamo La forza però ha 3 Non ha 10 Però è del livello 3 Runico 3 Difesa 18 Vitalità 2 Fortuna 4 Ricarica 5 Probabilità bassa di attivare un vantaggio Che conferisce un breve aumento di forza E difesa O difesa O un breve aumento di potere runico Dopo aver subito danni Ehm Vabbè Criamola dai Tanto Però Ma sì Perfetto Qui va già Adesso Dobbiamo Vediamo un attimo Se possiamo Potenziarla Appunto Non posso potenziare Ma manca Un oro E due acciaio Solito Mentre Qua Pomo dell'ascia Qui e qua Risorse insufficienti Talismano Possiamo potenziarla Sfera un potente attacco Che infligge i danni E uno stordimento E respinge i nemici vicini E inoltre un effetto passivo Grazie al quale Sblocchi E parate Accelere una ricarica Del talismano 10.000 d'argento Massimo Mi piace Mi piace Poi Vediamo Vediamo il ragazzotto Il ragazzotto Ragazzotto L'artiglio Potenziamo Ok Disponibili nuove abilità Quindi adesso andiamo Alle abilità Tanto le viate Qua non posso fare niente Ok Allora Buona fortuna Eh Grazie Le abilità Le viate Dell'artiglio Qua Perfetto Possiamo fare questo Aumento naturalmente I danni delle frecce Di attacchi in mischia E mettiamo Tutte e due Tanto Mettiamo La velocità D'utilizzo D'artiglio Ok Prendiamoli Tutte e due Vai Perfetto Combattimento magico Non abbiamo nulla Questo Possiamo fare un sacco di cose Allora Altrimenti Mentre scatti Premere uno Per fare un attacco In salto Mentre scatto Perfetto Questo Benissimo E anche questo Abbiamo finito gli xp Continuiamo il viaggio Dai Continuiamo il viaggio E Possiamo Possiamo farlo Vai Se lo portano giù Pari Ma che sei stupido Capito Corri Non c'è O Vabbè Poterà male 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 A propria Vai Ma mori Vai Non riesco a leggere Qui, ragazzo Un altro Guarda, il serpente del mondo È più grande di quanto credessi Oh, guarda Ha morso Thor O lo morderà Almeno sembra Dovrei trovare tutti gli altari Vabbè Dai, sali Tutto il veleno Abbiamo pure questo perché Va bene Perfetto Ah, devo lasciarlo Ok Lascia Ok Poi c'è sempre qualche Segreto Non si sa mai No Mi trovi Qua Aspetta Vediamo un po' Ecco Pronta Che figata Codesto Codesto Guarda, bastiano Questi li ho visti Dai, questi li ho visti Allora Che cacchio Dove fa qua? Ah no Non posso prendere Perché mi serve Bono là Che c'hai? Come te apri? Ah, ecco È un frammento È un frammento di codice linguistico Dovremmo cercarne altri Allora Posso andare Di là La sopra O qua sopra Vediamo un po' Un attimo Ma cos'era? Avevano un odore orrendo Tua madre li chiamava Bastoni del disprezzo Veleno magico Mi ha insegnato a neutralizzarli Rido l'idea di lei Che ti insegna qualcosa Già Però dall'altra parte C'era qualcos'altro Lo posso prendere Molto Eccoci qua Stiamo Andando Vai Quanta nebbia c'è qui Un altro nano Dovremmo La sua presenza Non ci riguarda Scusami Ma Dove hai trovato Quel Asha? Questo riguarda solo me Beh Non lo metti in dubbio Fratello Brog Conosco Quell'Asha Era una delle nostre E Non l'abbiamo creata per te Fatti da parte Io Non posso La donna per cui l'abbiamo fatta Io ero Io le sono molto affezionato E sarei Alquanto Dispiaciuto Se scoprissi Che tu Gli hai fatto qualcosa di male Era di mia madre Non ho dato a mio padre Prima di morire Ah quindi lascia Della madre Fai è morta Mi dispiace molto Per questo Era una grande guerriera E una donna in gamba Ok Io Prenderò migliore la tua ascia Ma Nessuno te l'ha chiesto Certo È vero ma Conoscendo tua madre Mi avrebbe chiesto di porre rimedio All'atto di vandalismo Repetrato sulla sua ascia Da mio Fratello Fratello No Lo sapevo Tu sei il fratello di Brock L'altra metà del marchio è qui Quell'essere blu è tuo fratello Sì Ma il mio talento è superiore Non esagero Lo giuro su Freya Non disfare la sua opera Migliora e basta Ok Ma potresti Potresti metterla a terra Lagiù Quel manico è lurido D'accordo Allora Devo solo Devo prenderlo Mi sta penando Che cos'è quella? Oh Quella L'ho chiamata Cielo via Su quella montagna Si trova un giacimento Di rare materie prime Una volta estratte Mi servirà per trasportarle a palle E la sai riparare? Neanche per sogno Vabbè ma lasciamo un attimo No Va bene E Parlamoci dai Hai creato l'ascia per mia madre? Oh la riconoscerei ovunque E' una delle migliori E' stata forgiata Con le grida dei troll dei ghiacci Una ventina Più o meno Perché lei? Come l'avete conosciuta? Ci aveva cercato lei Era una persona speciale Che voleva proteggere la gente Creare l'ascia Era per noi l'occasione Di dare potere A chi l'avrebbe usato Per fare del bene Parlava persino La nostra lingua Diceva Matherin Sam Gengur Egin Vengum Hans Gengurang Bravo Impressionante C'è molto di lei Nei tuoi occhi Sai? Grazie Cindy Non mi toccare Cosa? Non ti ho toccato Tornerò più tardi Vuoi un abbraccio? Completamente diversi Come fratelli Però Tanta roba Questi sono tutti i tavoli da lavoro Vedi vedi Statua che figa Allora Mappa La Mappa Dobbiamo andare Qua Do sta Ma che voleva Ma che voleva Mi sono spostato Però Ma qua Deve ne combattere Siamo attaccano Quanti cazzo Sono la serie Dai però Non me lo attento Ok Motto Ma dai Ma rossa il cazzo Questo Andiamo Ok Sono finiti No Cazzo Sta Guarda Guarda la roba che c'è qua sopra Sta sopra Ok Non sono finiti però Ma è enorme sto posto E' enorme Allora Dai Andiamo Non capisco Ci avviciniamo alla montagna Esatto Ecco Questo combattimento Ha mani nude Do sta E' andato Dobbiamo Dobbiamo seguirlo Dobbiamo seguirlo Laggiù Non voleva proprio Che qualcuno lo aprisse Capirei Quello che ci sarà dentro Ma farsi fermare Da un anadema Ammi ad un abbraccio Sì ma No Vabbè Una cagata Mi ha messo a notte Rompiamo tutto E prendiamo quest'altro Argento Adesso a 400 Allora qua la dobbiamo Andar via Ok Dobbiamo andare qua Giusto Ma se io C'è un sede ma Ah Ah Ehi Sta presa Sta stronza Se Vaffanculo va Dai Oh Ok Ok Adesso Qua c'è anche lì una grotta Andiamo E' tutto un labirinto Allora Questo che cacchio è L'ho visto prima ma non me l'ho fermato Non lo so Quindi Andiamo di qua Posso riprendere l'altra Sì Ah Questa qua Le camere nascoste E Come si fa Come si fa Entra Come si aprono Ste stronze Sì ma come si aprono Non si aprono così Nista Dai Dobbiamo andare di qua Aspeno scendo da là Lo giacciamo Perfetto Ok 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 E Ce l'abbiamo Siamo pieni Qua possiamo salire Dai Magari Magari per l'ultimo tratto della montagna La posso portare io Non penso Perché Lei era più importante Cosa Nel senso Che ho passato più tempo io con lei Tu eri sempre a caccia Ti conviene chiudere la bocca E La cosa li chiamo Ok Non ci posso andare Vediamo qua un attimo se Queste si distrugge Ah 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 C'è un C'è un qualcosa dietro Un bello scrigno Certo si aspetta che si leva a fuoco Armatura a busto Quindi Alzi Vediamo un attimo Allora Mazza che brutti però Ma danno Sono meglio quelli che c'ho Sì Sì Sono meglio quelli che c'ho Non mi interessa Poi Qua Altro passaggio Ok Però questo Non so due questi Forse mi do a linea O forse va a distrutto Aspetta Ok Va a distrutto e questo si ferma Facile Dai Questa Attacco lungo leggero Ma perché Sti st'attacchi La merda Che succede Ecco fatto Che cazzo Tunnel Nekuku Ganga Bakhnau Lasciano stare No Adraeus Posso ancora Ma non è più Gada Grande Mamma mia Che è Hai visto Ce ne stanno tanti Cazzo Vabbè Sì Poi Oh no Via Scappa Ok Ma che scoppiano Questi Ma che fa Ma che fa Ma di rave Un po' Dei Fuglia Dai Oh Mamma mia Oh Me lo so spostato Chiamolo 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 Distrailo Distrailo Ma Perché sono Allo strato Ho capito Vai Ammazzalo Che figata Che posso Comperà Mostruoso Mostruoso 5 orchi 10 orchi 20 orchi Va bene Ma ancora Ok Allora Chi ha costruito Questo posto Prima dato Chiamagacciato Oggetto leggendario Un materiale che Unisce la furia Del fuoco Della tempra Del ghiaccio Di genere Grande battaglia Si usa per tenenziare Le pietano Buono E ci servirà Per Per il fabbro Incantesimo Incantesimo Devo aumentare la forza L'unico Ok Perfetto Chiamolo Un po' De vita Qua Dove siamo Base 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 della montagna Ma già siamo arrivati A destinazione Alla base Come fai Come fai Come fai Maledetto Come faccio Alliberate E cosa Cosa ci serve Perfetti Così Cosa ci serve Atreus Tu lo sai Lo saprò Lo saprò Cindy Che la cielo Vi è bloccata Da queste radici Ne dubito Come potrà farla funzionare Non mi importa E' una ambientazione Bellissimo Bellissimo Quello è Fumo Che cazzo è Con sta roba Fermati ragazzo No Che cazzo vai Cos'è Cerchiamo un'altra strada La strega Magari fosse qui Forse potrebbe Iutarci La mia magia È inefficace Contro l'alito nero E non c'è modo Di aggirarlo E tutto questo Grazie a Odino Che ci fai qui Mi assicuro Che arriviate Sani e Salfi E perché Sova adesso Ero impegnata A salvare il mio amico Te lo ricordi L'alito nero È una magia Così malvagia Che neanche io Riesco a fugarla Solo la pura luce Di Elfheim È tanto forte È da aprire un barco La strada è lunga È importante Che proseguiate Importantissimo Seguitemi Perché ci aiuti? Forse in voi C'è qualcosa di me Più di quanto io ammetta Forse Aiutare voi È un modo Per rimediare Una vita Di sbaglio O forse Voi mi piacete Anche se abbiamo Ferito il tuo amico Anche se avete Ferito il mio amico Sì Dove dobbiamo andare? In un regno Al di là Del posto Senti Senti Io voglio Un attimo qua Che c'era qualcosa Quindi Aspetta un attimo Andiamo Andiamo in un altro regno Tu vieni con noi Solo per un po' Solo per un po' Cosa c'è qui Mi posso buttare Mi rimazzo Un'altra volta Andiamo No ma Dreyus Te fidi? Dai Useremo questo Greida No Sindri dice che è rotta Sindri? Il nano ai piedi di questa collina Prima la stava aggiustando Non c'era nessuno Quando sono passata Forse ha finito I nani sono molto ingegnosi E irritanti Considerando quei due Vero Prova con quella Dai Su La Sì E guarda che funziona Il tempio di Tir è al centro del lago Da qui si arriva fino ad Alpine Fortunatamente non è più sott'acqua Perché quell'essere nel lago? Nessuno lo sa È comparso dal nulla Poco dopo Thor attaccò E la loro battaglia Scosse tutti i regni Alla fine non prevalse nessuno E Thor tornò da Udino a mani vuote Il serpente rimase E divenne così grande Da cingere tutti i mirgal Ho visto L'avevo detto Da quel giorno si odiano Sono destinati a uccidersi Durante il Ragnarok Tu credi nel Ragnarok? Vorrei non crederci sai Però non mi convince questa Non mi convince da niente Noi abbiamo parlato con il serpente del mondo Davvero? Sta esagerando Sono bravo con le lingue Anche con quelle che non conosco Ma quando parla lui Non capisco niente Nessuno può capirlo Parla una lingua morta Oh Si sentirà solo? Nano Nano Fate attenzione Seguitemi Sicura Siamo già entrati qui E non c'è modo di tornare indietro Vedi? Tu dici? Ti faccio vedere una cosa Stai guardando? Liosta Cosa? È solido Architettura elfica La corda è stata immersa Nella luce di Alphine E ora puoi svegliare La magia degli elfi Aspetta Non è che sparirà, vero? Non finché la luce splenderà Da questa parte La voglio La voglio Che genere di magia È Vanir Di Vanai La conosci? Ne ho sentito parlare Mamma non mi ha detto molto Degli dei Vanir Solo che sono sempre in guerra Con gli Aesir Rispetto a Odino e Thor Immagino loro siamo i buoni Non ci sono dei buoni Ragazzo Te l'ho già detto Va bene Ma lo darai quel potere della magia Si Il tempio di Tir Eretto con l'aiuto dei giganti Il grande Tir lo usava per viaggiare nei nuovi regni Per mantenerli in pace Non sembra ci sia molta pace qui Ovunque andiamo siamo attaccati Soprattutto da cose morte I morti viventi sono sempre più numerosi Prima strade e sentieri erano pieni di gente Ora sono tutti nascosti o fuggiti Tranne i selvaggi Che riescono a sopravvivere in questo mondo Gira a destra alla fine di queste scale Quindi Ehi Un altro cristallo di luce Aspetta lì mentre risveglio la luce Mi osta Funziona Che facciamo esattamente? Ripariamo le cose Inizia a sollevare quell'asse Bene Ora rimettilo a Scusate se parlo poco ma Stavo di benerazione Ora riallinea la ruota sul binario Bravo ragazzi Quella Perfetto Ora spingi il ponte sul binario Sì, è la madonna Ma quale è la posizione originaria? No È sempre stato molto forte Allora, i morti Sappiamo che c'è chi mi chiama Hellworth Ma cosa sono? Sono povere anime tormentate a cui è negato giudizio e pace Come? La magia Vanille può rianimare i morti? In passato sì Ma questa non è magia Questa piaga dei non morti è il sintomo di un mondo squilibrato Qualcuno o qualcosa ha interferito con forze potenti Questo lo so per certo Siamo arrivati, eh? Così è perfetto Torna su Siamo pronti ora Incredibile Ti sei fatto male? No, non mi sono fatto male Oltre queste porte Quindi il tempio di Tyr è stato costruito dai giganti o dagli elfi? Tutte le razze hanno contribuito Ma qui non c'è Brock? È stato l'ultimo atto di cooperazione tra i regni Prima che la pace svanisse per sempre Vabbè Non c'entrava niente Scusate Abbattiamo il picciolo Brock, ci sei? Ma è sparito Brock? Dove cazzo è nato? Dove il fratello è andato? Perché? Vai Fa questo punto La tua corda non brilla più Il suo potere è esaurito Qualche scintilla di magia era rimasta Ma noi le abbiamo usate Vabbè Dagli l'arco Sì Ricorda Reclamando la luce di Elfai Mi infonderai alla corda il suo potere E dai Un giocattolo nuovo per Ateus Parli come se non venissi con noi Ci proverò Ma sono state prese misure Per confinarmi a Midgard La possono attivare Agli dei non importa di me Sì ma Brock Perché non c'è sta più? È strana sta cosa Vai È questo È così buio Questo tempio è rimasto dormiente sott'acqua Per quasi 150 inverni Basterà la luce del Bifrost a ritestarlo Che spettacolo Che spettacolo Queste radici non sono opera tua Non lo sono Le radici appartengono al grande albero del mondo E consentono di viaggiare tra i regni Avvicinati al tavolo Come funziona? Serve questo Un Bifrost Per compiere viaggi tra i regni Cattura, conserve e trasferisce la luce di Elfheim Metti il Bifrost là Sempre con delicatezza Tranquillo Aspetta un attimo Al tempio serve tempo per svegliarsi dal lungo sonno È da questa sala È solo da questa sala Che potrete viaggiare da un regno all'altro Quello che vedete rappresenta il tempio in cui ci troviamo Ok Oltre alle torri dei regni che circondano il lago dei nove Tutti i regni esistono nello stesso spazio fisico Riflettendosi l'un l'altro Queste porte, le torri all'esterno e i nove regni sono tutti intrecciati E coesistono sui rami dell'albero del mondo Separati solo dalla luce di Elfheim del Bifrost Questo posto concentra e controlla quella luce È l'albero del mondo? Solo una rappresentazione artistica No, l'Eggdrasil è molto più di tutto questo L'albero del mondo è legato al destino del mondo E noi siamo legati ad esso L'albero nutri il nostro terreno La rugiata delle sue foglie alimenta le nostre valli e i nostri fiumi È l'albero a sostenere tutto il creato tramite i suoi grossi rami La sua energia vitale permea le trame della vita Nascere, vivere, morire, rinascere Ogni singola maglia al di là del tempo e dello spazio Tutto riconduce all'albero Ecco È così che funziona Immagino volessi una risposta più semplice Sì Va bene così Il ponte che avete spinto fuori adesso porta al regno di Vanheim Ora invece girate la ruota verso la nostra nuova destinazione Alfaim Ma questa fa muovere il ponte là fuori? Sì, la ruota fa girare il ponte E questo si allinea con le torri dei diversi regni nel lago là fuori Aspetta, non c'è torri in questo Per questo è impossibile arrivare a Jotenaim Senza una torre dove bloccare il ponte La sequenza non inizia Ok Ogni regno ha una runa del viaggio che sblocca il ponte Io ti sto dando quella per Alfaim Ora puoi fissare la tua destinazione Va benissimo Dove la fisso? Come si fa? Siamo pronti Ricordatevi un più frost Meglio che non lo perdiate Ora il ponte del viaggio si allineerà E si aprirà il regno tra i regni Va bene Vedi quel grande cristallo? Ogni regno ne possiede uno che concentra e apre il ponte verso quel regno Per questo si può viaggiare tra i regni solo da questa sala Come mai dal lago manca la torre di Jotenaim? La torre di Jotenaim scomparve da tutti i regni oltre 100 inverni fa Quando i giganti sparirono da Midgard Dove andò a finire come la spostarono rimane un mistero Comunque Siamo ancora qui Seguite Il biforost è buio Il viaggio l'ha esaurito Per tornare va rigenerato con la luce di Alfaim Siamo bloccati Qualcuno con la tua abilità non avrà problemi a tornare a Midgard E riusciremo a scacciare quell'alito nero? Se cattureremo la luce di Alfaim? Sì Andiamo a vedere Che figata Sono rimasto senza parole ragazzi Senza parole È tutto Diverso Eh infatti Benvenuti ad Alfaim, signore E adesso vedrete... La luce Ma si vede appena Qualcosa non va La vedi quella colonna di luce? Si trova al centro del Tempio ad Anelli Quello che ci serve è laggiù No No, 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 no Maledizione Che ti succede? Da voi Per ripristinare la magia del biforost Devi entrare nella luce Sta bene a destra Non porti prendono No Non è morta Vero? Improbabile Andiamo Che spettacolo Madonna Sempre più bello Guarda questo posto Non toccare niente E restami vicino Sempre più bello Trovo una strada per la luce Grazie a tutti Grazie a tutti